Questo convegno è un convegno davvero molto importante perché consente di fare un po' il punto della situazione su quella che è la ricerca del metodo di Bella e soprattutto su quelli che sono i nuovi orizzonti. Sì, gli orizzonti in questo momento sono abbastanza rosei, gli sviluppi ci sono, ci sono collaborazioni importanti, il professor Venturi, il professor Neri, altri colleghi, la dottoressa Ferreri stanno dando un aiuto ma stanno sviluppando delle ricerche nel senso della terapia biologica dei tumori. Come ho detto durante il congresso, il termine è stato coniato da mio padre, dal professor Di Bella, oltre 40 anni fa e mi senti detto il concetto di una terapia che possa dare effetti senza creare tossicità, che abbia dei riscontri oggettivi e abbia delle risposte cliniche e sia basata sulle banche dati medico-scientifiche. I risultati presentati sono degni di interesse perché i risultati più brillanti che abbiamo ottenuto recentemente sono stati presentati al congresso, sono casi clinici di tumori cerebrali anaplastici che hanno una prognosi quasi costantemente in fausta e in cui applicando questi concetti di terapia si sono ottenuti dei buoni risultati. Il caso eclatante che abbiamo presentato è un glioblastoma, il quale a distanza di 7 anni non solo in perfetta salute ma ha attività lavorativa. Gli accertamenti che sia risonanza magnetica che si appetta non mettono in evidenza la presenza di tumori, altri sono astrocitomi anaplastici. Quello che è importante è indicare e richiamare l'attenzione sulle linee di ricerca che sarebbe opportuno seguire. Abbiamo inserito praticamente, cerco di richiamare l'attenzione dei colleghi, degli oncologi, dei ricercatori su aspetti ancora sottovalutati.